Buonasera a tutti, vi annuncio di aver vinto il ricorso al TAR, sono diventata portavoce per il Comune di Ieste, un'esperienza meravigliosa, inizieremo a lavorare all'interno dell'istituzione, porteremo le nostre proposte, cercheremo di migliorare il nostro Paese. Vi ringrazio, ringrazio tutte le persone che hanno votato, 863 persone, ringrazio tutte le persone che ci hanno sostenuto, ringrazio tutte quelle persone che non ci hanno abbandonato e che hanno continuato a credere in noi, nonostante tutto. Le difficoltà sono state tante, ma noi riusciremo tranquillamente ad andare avanti e a lavorare con voi. Arrivederci a tutti!